Il nodo della presidenza del Copacir continua a infiammare il centrodestra accendendo i toni dello scontro tra Lega e Fratelli d'Italia. I presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, se ne sono di fatto lavati le mani. Facendo presente al presidente del Comitato di Controllo Parlamentari dei Servizi, il leghista Raffaele Volpi, la loro impossibilità a intervenire e aprendo così la strada a un accordo politico che sembra, tuttavia, difficile da trovare. Dopo il cambio della maggioranza determinato dall'avvento dell'esecutivo Draghi la guida del Copacir viene rivendicata con forza dalla leader di FDI Giorgia Meloni sulla base della legge. Che dispone appunto che il comitato sia presieduto da un esponente delle opposizioni. Fico e Casellati sostengono che nessuno può costringere Volpi a dimettersi anche se sono in molti a chiedere un loro intervento per ripristinare la nella legittimità allo stato del Copacir che nella sua composizione secondo la legge 124 del 2007 prevede che la metà dei seggi e la nomina del presidente Spetti all'opposizione. Nella riunione di ieri del Copacir disertata per protesta dal vicepresidente Adolfo Urso, FDI, ed Elio Vito, FAI. Volpi non ha dato le sue dimissioni ma ha proposto un «reset» del comitato attraverso un patto politico e istituzionale tra i partiti, i gruppi parlamentari e i vertici delle due camere. Tutti i componenti del Copacir rimettano il mandato ai presidenti delle camere ha proposto Volpi nelle sue comunicazioni a San Macuto i quali, in modo informale ma chiaro e pubblico, garantiscano la ricomposizione dello stesso con cinque esponenti dell'opposizione, permettendo quindi tra essi la libera scelta del presidente, in alternativa questa la seconda proposta avanzata da Volpi per superare l'impassi il Copacir attuale. In composizione presidenza si assuma l'onere di sintesi politica. Di lavorare per una modifica della legge 124 del 2007 che regola l'intelligence.